Seconda fila al 9, Red di Rodi, Edoardo Moni, 10, Rainbow J, Bay, Barbara Renzulli. Stacco, si avvantaggia subito Renoir Dullac che prende di slancio l'iniziativa, Redaro fonda all'esterno di dentro Romero a Pisa con un largo race salans, desiste Redaro, mentre Renoir Dullac guida, è rimasta molto lontana invece Roccatunda fallosa nella fase iniziale 200 in 15,1 per Renoir Dullac che guida davanti a Romero all'esterno Race Salans, dietro alla quale si è sistemata Redaro fonda, il passaggio ai primi 400 metri in 31,5, terza posizione alla corda per Red di Rodi, e intanto i rivali si presentano al passaggio di fronte alle tribune, ha ridotto drasticamente il ritmo il vattistrada che adesso approda al paletto dei 600 iniziali in 49 scarso, nella sua scia sempre Romeo, a largo Raissa, poi Rediro di Redaro fonda all'esterno che si porta presso Reiza muro, ancora allo steccato Rainbow J, Bay, sbaglia Rooney B, Power, chiude il gruppo Raise Vecchiaro. Numero 4, Rooney B, Power, squalificato. 1,5 scarso per i primi 800 metri. Numero 6, Roccatunda, squalificato. Lo schema non cambia quando si va ad affrontare la seconda curva con Renoir Dulac che porta a spasso la compagnia, 21 e spiccioli. Il primo chilometro, Raissa che accompagna, a ridosso del leader, in corda c'è Romeo, a largo Redaro fonda. I 1.002 di Renoir Dulac in 1,37, ora il ritmo inizia a farsi un po' più selettivo con Raissa che va a spingere su Renoir. In corda Romeo, a largo Redaro, poi Re di Rodi, all'esterno Reiza muro, 800 alla conclusione. Con Renoir in bandare, Raissa Lanza, squalificato. Renoir che viene un po' in su, poi torna allo steccato, siamo all'imbocco della curva conclusiva. Renoir al comando, a 600 alla conclusione. Alle sue spalle, Romeo e Redaro in coppia, poi Re di Rodi e Reiza muro, ancora Rainbow, J. Bay. Mancano poco più di 400 metri al termine con Renoir Dulac che ha lanciato la volata a lunga. Numero 10, Rainbow, J. Bay, squalificato. Allo, Romeo da Pisa con Redaro fonda all'esterno. Numero 2, Reiza muro, squalificato. Ho sbagliato anche Reiza muro, Renoir in vantaggio, Redaro prova l'aggancio, si butta all'interno. Renoir che viene in su, Redaro che insegue, poi anche Reddi Rodi, Redaro che rimonta, Renoir poi Reddi Rodi sul palo. Redaro, Redaro fonda, Renoir Dulac, Reddi Rodi, Romeo da Pisa, Raise Vecchiari e vince ancora Redaro fonda. Sempre in coppia con Alessandro Baldi che ne è anche trainer. I colori dell'allavamento le fontanette, la quota totalizzatore 5 e 0,6. mentre il tempo al chilometro dovrebbe essere intorno all'uno diciotto e mezzo.